Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi realizzeremo insieme queste decorazioni per Halloween. Ci occorreranno due piatti di carta, colla a caldo, colori acrilici e scovolini neri. Grazie a tutti e benvenuti sul mio canale. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti e benvenuti sul mio canale. Grazie a tutti e benvenuti sul mio canale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.